Bentornati sul canale Amo gli italiani. Oggi con le ultime notizie come L'attore ed ex modello ha compiuto 50 anni. Molti messaggi di auguri al noto personaggio televisivo. Su Instagram una donna ha pubblicato uno scatto inedito, Gabriel Garco è uno degli attori e personaggi televisivi più famosi degli ultimi decenni. Diverse le sue partecipazioni come attore in diversi film cinematografici e televisivi dalla fine degli anni 90 in poi. Nelle scorse ore ha compiuto 50 anni di età. Ma che scatto è apparso su Instagram? Chi è stata la donna a pubblicare una foto inedita risalente a parecchi anni fa? Gabriel Garco, ecco lo scatto inedito, Gabriel Garco, fra i suoi tanti ruoli nei vari film ai quali ha preso parte, ebbe notevole successo dal 2006 in poi grazie al suo ruolo nella Fiction TV, L'onore e il rispetto, su Canale 5. Nel 2007, inoltre, fu protagonista anche del film di Pieraccioni, Una moglie bellissima. Al Festival di Sanremo del 2016 ha affiancato Carlo Conti, Virginia Raffaele e Madalina Ghenea nella conduzione della Kermess musicale. Gabriel Garco a settembre del 2020 ha fatto Coming Out, dichiarando a tutti la sua omosessualità. Lo ha fatto al Grande Fratello Vip ai tempi della partecipazione al reality di una delle sue ex storiche, cioè Rosalinda Cannavo. In quell'occasione ha dichiarato di aver avuto una storia di oltre 11 anni con un ragazzo. Ma che scatto è apparso su Instagram nelle ultime ore, la foto. Gabriel Garco ha festeggiato i suoi 50 anni. Un traguardo molto importante, che ha deciso di festeggiare insieme ai suoi amici più cari. Tra questi erano presenti Maria Grazia Cucinotta, Eva Grimaldi e sua moglie Imma Battaglia. Proprio Eva Grimaldi ha pubblicato su Instagram un suo scatto inedito insieme a Gabriel Garco, risalente ai tempi della loro frequentazione. I due ben prima del loro reciproco Coming Out hanno convissuto per oltre 8 anni a cavallo tra gli anni 90 e i primi anni del 2000. Ecco lo scatto. Eva Grimaldi è rimasta in ottimi rapporti con Garco e i due ora sono grandi amici. La foto postata su Instagram dall'attrice ed ex concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip testimonia quanto i due siano rimasti affiatati anche tantissimi anni dopo. La Grimaldi oltre alla sua presenza dal vivo alla festa di compleanno ha voluto augurare buon compleanno a Gabriel Garco anche con queste splendide parole come di Dascalia allo scatto. Ecco le sue frasi, questi siamo noi. Ma da quanto ci conosciamo e quante avventure abbiamo vissuto e superato insieme? Si dice che la vita incomincia 50 anni, bene io ti auguro che da oggi per te inizi solo il meglio perché te lo meriti, buon compleanno amico mio, ti voglio tanto bene. Cosa ne pensi delle notizie di qui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.